Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo episodio della retro minecraft Retro, 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 retro crafting Quale cazzo l'abbiamo chiamata questa sera? Non mi ricordo, la retro craft, ovvero la versione 1.0 di minecraft signori miei Siamo precisamente dove ci erano fermati l'altra volta Ovvero in mezzo al nulla, in mezzo alla neve, sul nostro bellissimo lettino Con tanti polli e poche cose al nostro... Il deserto totale completo signori miei Allora, cosa facciamo in questa live signori miei? Allora, sì, in questa live Questo è un video, raga, visto il periodo pasquale Alterneremo delle live a dei video Ragazzoli, costruiamo la nostra casa Visto che siamo in un ambiente nevoso Signori miei, costruiamo la nostra bellissima casa Allora, questa ce l'ho della... Ok, sì, facciamo una bellissima pala E non ho gli stichettini, ma parca di quella miseria Ma parca miseria Allora, facciamo un po' di stichetti Che paranoia, il fatto che non me li porta direttamente i blocchi Mi dà un fastidio che voi neanche immaginate Allora, facciamo blocchi così Oh, perfetto Metti due blocchi di qua E facciamo una pala qui e una pala qui Dici che devi fare con tutte queste palle Dobbiamo intanto recuperare questa neve, signori miei Perché essendo in un ambiente nevoso Carissimi amici miei Ci faremo un igloo come casa, signori miei Ovvero, non siamo proprio nel ghiaccio Diciamo, dovremmo essere di più Più precedentemente nel ghiaccio Per farci il nostro bellissimo igloo Però, secondo me, può uscire una cosa carina Quindi, recuperiamo tutta questa neve Recuperiamo questa neve E leviamo questo strato di terra qua Sotto noi Ok, ragazzoli Abbiamo pulito tutta quanta la zona Prende di quel mucchio di terra che c'era qui Abbiamo levato un sacco di neve Abbiamo recuperato un bel po' di neve Se la smettesse di buggarsi il personaggio Sarebbe una cosa utile Ok, mi si incanta Cammina da solo, praticamente Iniziamo benissimo Allora, signori miei Abbiamo un po' di neve Facciamo i nostri bellissimi blocchi di neve Vediamo quanti riusciamo a fare Allora Se faccio sì, mi trasformi tutti Sì, ok 16 blocchi Non so se mi bastano, raga Ma abbiamo neve in abbondanza Quindi Facciamo tutti 32 Ok E c'ho le ultime palle Praticamente, che detto così, non è bellissimo Però è che paranoia 4, 4 e 4 Perfetto Siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E t'attacchi al tram Va bene Me ne restano 3 sulla pancia Riusciamo a prendere un altro pezzettino? No, perché non ho più la palla Allora, costruiamo la casa, raga La casa nostra la costruiremo qui Allora, distruggiamo tutto questo Lo so che non è lo strumento ideale, raga Per distruggere queste cose Ma non ci posso fare nulla Non ci posso fare Questa è vuota Ok Questa è vuota Quindi distruggi la cassa Perché non si distrugge la cassa? Ah, ok Non comparivano le cose Non capivo perché non si distruggeva la cassa Allora La nostra bellissima casa Verrà fatta così, raga Più o meno diciamo Che l'ingresso potrebbe essere fatto di qua Sì, più o meno sì Allora, facciamo 1 Qua ci va la porta 2 e 3 Poi facciamo questa Ricorderà molto, diciamo La nostra vecchia casa Il nostro vecchio bungalow Sulla spiaggia, raga Sulla spiaggia Così Così E poi facciamo così Così Ovviamente deve essere piccolino, raga Deve essere il nostro bungalow Che si deve mimetizzare Per stare Per stare Ma è un villaggio quello? No, è troppo grosso Per essere un villaggio Quello là sotto È una montagna? No, vabbè Poi lo andremo a vedere Se quello è un villaggio Oppure no Poi lo scopriremo Lo scopriremo successivamente, raga Lo scopriremo successivamente Allora Saliamo di 1, 2, 3 e 4 Soffre la gravità questa neve? No Perfetto Meglio così Fai così Fai così E qua ci metteremo un vetro Non mi basterà mai Il materiale Dobbiamo recuperare Altra neve, raga Dobbiamo recuperare tantissima Altra neve Non è che dobbiamo Ricoprire altra neve Dobbiamo recuperare tantissima Altra neve Va bene Allora Mi porto un attimino avanti Con il discorso neve e cose varie E ci vediamo fra un poco, raga Anche perché tra un poco Si stacca la notte O facciamo una palla in ferro, dai Così dovrebbe durare di più In teoria In teoria la palla di ferro Dovrebbe durare di più E posso piazzare il letto Che sta a venire la notte E qua C'è C'è Ammazzano male Grazie Gentilissimo Ricopriamo altra neve, raga Tanto in teoria Questa potrebbe ricrescere In teoria Si spera Si spera che questa Dovrebbe rispuntare poi Ok, raga Ci siamo Piazzo gli ultimi blocchi Di qua E di qua Perfetto Il nostro igloo Signor di me Questo blocco di terra Qui non c'entra niente Lo leviamo Ok Questo abbiamo levato Questo Lo andiamo a levare pure Qui in teoria dovrebbe Ricomparire praticamente La La neve In teoria Secondo un'antica leggenda Questo li mettiamo per bellezza Non per altro Magari questo no Ok Il nostro bellissimo La nostra bellissima casa Piccola Igloo È fatta, raga Dai, è carina È carina, è carina Allora Allora Qui abbiamo messo la crafting table Qui mettiamo la fornace Signori miei La fornace la mettiamo qui E se non sbaglio Dovrebbe avere una cassa Ok Una cassa la mettiamo lì E poi andiamo a fare un'altra cassa Che dovrebbe avere il legno Perfetto Ah che cazzarola Mi dimentico sempre Mi dimentico sempre che non me lo fa scorrere Mannaggia Allora Che la mettiamo Qui Perfetto Qualche torcia Magari la metteremo anche Sperando che non si sciolga la neve Con la torcia Praticamente Se si scioglie la neve con la torcia Rido male Raga Allora Riusciamo a fare anche una porta Perché se avete una casa Senza una porta Non è una cosa Bellissima Oh Con sei pezzi di legno Facciamo una porta Beh Vabbè Meglio niente Meglio niente Meglio niente Perché non dovrebbe starci Perché saltellano Sei contento di vedermi creeper Io No Per niente Quindi potreste evitare di Che poi scemo Cioè Perché non fai il giro E mi viene a prendere da questa parte No Cioè da questa parte c'hai gradini Per salire a prendermi Però va bene No 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 Cosa cazzarola c'è sotto a casa nostra Raga C'era di tutto qua dentro Mi illumino un poco di immenso Che vorrei evitare che Sponni altre cose Mamma mia Cosa c'è là sotto No No Chiudi 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 Raga Segniamocelo Intanto si è rincredinito il mio pupazzino Raga Il mio pupazzino si è rincredinito Saltella da solo Saltella da solo il mio pupazzino Bella così Bella così La smetti di saltellare Ok No Non li stufato Stiamo saltellando da soli Raga Che cosa carina Stiamo saltellando verso nuove orizzonti Saltelliamo tutti assieme in felicità La smetti di saltellare Ok Recuperiamo un po' di sabbia Raga Possibilmente quattro pezzettini Se il mio Il mio tipo Fa tutto Fa da solo Allora Riesci ora Saltella nuovamente da solo Raga Che cosa bella Che era bello minecraft Nella 1.0 Signori miei Proprio Nessun tipo di bug Ci sono ancora i bug Della 1.0 Raga Allora Qui in teoria Io spero Spero torni tutta la neve Perché se no Se rimane così Sta proprio una gran cagata Però spero che rimanga tutta la neve Allora Non avevo messo il ferro a cuocere Qui no Non avevo messo il ferro a cuocere Allora mettiamo un po' di carbone Mettiamo la sabbia Che spero Che diventi vetro E puliamo un attimino E puliamo un attimino qua davanti Riesci ok Così quantomeno abbiamo il sentierino giusto di casa Ovviamente il tasto per zappare la terra Non funziona L'ultima cosa che voglio fare Prima di chiudere questo video Signori miei È levare tutta questa terra Che effettivamente sta molto brutta Sta molto brutta E mettiamo il pavimento di legno Dopodiché noi con calma ci Piano piano continuiamo a organizzare sempre di più Ragazzi miei E proveremo Dalla prossima volta Ad andare in esplorazione di qualche caverna Ragazzi Vedremo un attimino di Continuare qualche esplorazione Magari cercando anche di avere degli attrezzi un poco migliori Allora qui possiamo proprio usare Questa gravel Questa lana Questa cobblestone ce la teniamo Il funghetto Questo tasto funziona Sì Gravel Questo Gli alberelli Le palle da neve Le frecce Questo Questa carne la cuociamo Questa terra me la tengo Questa terra la posiamo Questo legno me la tengo Questa la posiamo Questo facciamo così So perfettamente che voi dite Ma che sta e fa Non vi preoccupate raga Stiamo dando un attimo una sistemata Al nostro inventario Questo può usare Questo può usare Può usare Può usare E di qua posa questo Anche se è quello completamente rotto Facciamoci gli strumenti nuovi raga Una volta che abbiamo Il ferro Allora il vetro ce l'abbiamo Mamma che era brutto il vetro raga Mamma che era brutto il vetro Allora facciamoci gli strumenti Signori miei Allora intanto trasformiamo tutto questo Ok Poi facciamo un po' di stickettini Che quelli servono sempre Ok Allora ci facciamo Un bel piccone Signorini Piccone Che paranoia Piccone di ferro Bella così Poi ci facciamo Una spada di ferro Ok E la pala Che patente Già è distrutta Però va bene Va bene Va bene Detto questo Posizioniamo il vetro Mamma che brutto il vetro raga Mamma che brutto Guarda che era strano La texture del vetro Allora ne ho presi tre Quando me ne servivano Semplicemente Ne ho presi quattro Quando me ne servivano Semplicemente tre Va bene Allora qui metti questo Lo piazzi qua E poi dopo il ferro Dobbiamo semplicemente cuocere Il Qua chiudi Cortesemente Grazie Abbiamo lasciato sto blocco Che fa cagare No abbiamo perso anche la porta Allora stiamo calmi Posso mettere un blocco di legno Qui Vediamo se ci riusciamo Un blocco di legno Qui Una porta Qui Non qui la porta No Come si rompe la porta Quindi se non l'apro Non mi si rompe Ho capito La devo rompere per forza Per la devo aprire per forza Per romperla Allora questo Qui Questa qui Vediamo se ai tempi Sistemano le pedane a pressione Raga Ai tempi sistemano le pedane a pressione Place un plate E funzionano Quindi se la metto qui Funziona Che cosa carino Ora semplicemente Dobbiamo semplicemente fare una cosa Ovviamente casa nostra è piccolissima Ovviamente così Dovremmo evitare lo spawn di mob E va bene Ok Questo so io che cammino Sì Ritorniamo dentro casa Cortesemente grazie Dormiamo E superiamo la terza notte Signori miei Terza notte andata Allora ragazzoli Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per tutto quanto E spero che questa serie Vi continua a piacere Fatemelo sapere nei commenti E con i like Noi ci vediamo prossimamente Con un terzo episodio In cui proveremo Andare in spedizione Da qualche parte Vediamo Vediamo Detto questo Bella raga Ciao Ciao